Aspetta, questo qui la batteria ci vuole. E lei rite, lei rite perché sa la storia. E non puoi stare raccontata, ci sono i bambini. Beh, l'altro... Com'era? Sono ammalato di bronchite. No, cos'è? Era una cosa complicata così che la faceva Jack. Beh, facciamo per... Steve Rap, Steve Rap. Steve Rap, Steve Rap. Non date diretta a quello lì, lo porto a piedi. Non date diretta a quello, madre, che cazzo ha gli antipi? Non date diretta a quello lì. Valdè! 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 Anche su questo... Quattro quarti veloce, tuccia 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 tuccia. Vai! Da pugno, da sedia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.